Il nostro campione cittadino è il campione di Aquatron, a maggio è diventato campione nazionale di Aquatron. A te chiedo di spiegarci cos'è l'Aquatron e soprattutto di raccontarci il giorno della vittoria. L'Aquatron è una disciplina che consiste in due frazioni di corsa intervallate da una di nuoto. Per il freddo a maggio abbiamo fatto la formula solo nuoto-corsa. E sì, è stata una bella giornata, non me l'aspettavo, volevo, ero determinato, però era una gara dura. Ero contro i 98 e c'era una start list abbastanza agguerrita. Però sono riuscito a ottenere quello che volevo. Sì, ricordiamo che Nicolò ha 16 anni, quindi un 99, giusto? Sì, sì. Cosa hai pensato quando hai visto che non ce n'era per nessuno, che eri solo davanti? Non ce n'era per nessuno, è un po' difficile. A nuoto sono uscito in solitaria, poi in corsa stavano rientrando, però sono riuscito a contenere il rientro degli avversari e sono stato molto contento all'arrivo. Anche noi, devo dire, di Selvazzano. Tanti si chiedono perché proprio triathlon. Io ti ho visto allenare nei campi di atletica e quando ti guardavo allenarti pensavo che questo è un ragazzo che potrebbe fare qualsiasi spot, potrebbe riuscire in tante cose. Perché allora proprio il triathlon? Ma io ho scelto il triathlon perché comunque è una disciplina che varia molto. Alle gare guardiamo tanti posti diversi, quelle cose là. Poi a volte sì, mi chiedo perché triathlon, però ci sono tanti sacrifici, tante rinunce, però alla fine c'è soddisfazione. Esatto. E a proposito di rinunce, tu ci hai mai pensato di dire basta, basta con questi allenamenti tutti i giorni, basta, voglio fare una vita normale, due giorni di allenamento a settimana e poi sto con i miei amici? Ma ma ci ho anche pensato, però alla fine non saprei cosa fare durante il giorno, sono troppo abituato a questi ritmi ormai. Lo capiamo? No, non lo capiamo. Noi ti seguiamo anche su Instagram e vediamo che pubblichi un sacco di cose buone da mangiare, quindi capiamo che hai anche un'altra passione oltre il triathlon. Sì, 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 ho la passione della cucina e mi sto specializzando adesso su farine strane, quelle cose là, però sì, sì, anche quella è un'altra passione che coltivo da piccolo. Magari è un cuoco che corre e che nuota, non lo so. C'errò finché farò un Ironman. Va bene. Allora salutiamo Nicolò, hai voglia di dire qualcosa a tu? Ah, niente, io vi ringrazio e alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao.